Spazi più ampi, personale formato in maniera adeguata e nuovi servizi per dare le risposte migliori alle sfide del mercato del lavoro. Ecco come sarà il nuovo centro per l'impiego e ufficio di collocamento di Piacenza. La sede non sarà distante da quella attuale a Borgo Faxal con ingresso da Viale La Primogenita. Cambierà però di molto la concezione, dislocato su tre piani per un totale di 1600 m2 e con 40 persone che lavoreranno all'interno. Un servizio che partirà non prima di dicembre 2024, realizzato grazie al piano regionale per il potenziamento dei centri per l'impiego, finanziato con un contributo complessivo di 1.900.000 euro, 1.600.000 dalla regione e 300.000 dal comune. Andiamo a recuperare tutta un'area molto importante, andiamo quindi a fornire dei servizi ulteriori alla cittadinanza e quindi un bel risultato, una sinergia tra il comune e la regione che si conferma ancora vincente e importante per la nostra ripartenza. Non deve essere visto al centro per l'impiego come un fatto burocratico che deve andare là. Saremo noi stavolta che andiamo a prendere i soggetti di rappresentanza, andiamo dalle imprese, faremo dei report. Anch'io ogni sei mesi farò una convention sui report del come è il mercato del lavoro, dei bisogni, delle difficoltà e quindi una fotografia trasparente per far sì che tutti siano consapevoli del bisogno, del come si fa a trovare lavoro che è la cosa più importante nella prospettiva dalla vita. Grazie. 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 Grazie.